Cari amici telespettatori, dopo Verona-Milan 3-0, non ci sono parole da dire, la squadra ha giocato male, sprecato facendo 25 tiri senza concludere niente, giocando una pessima partita contro un Verona vivace e volontaroso, al contrario della nostra squadra che mi è sembrata stanca e priva di idee. Il povero Gattuso era infuriato e lo capisco benissimo, però da queste partite bisogna imparare a giocare al calcio perché come ha dimostrato il Verona si sa fare e il Milan è ancora molto indietro di preparazione e siamo a metà campionato ragazzi, non si può andare avanti così, speriamo solo in bene e poi vediamo quello che succederà. Un abbraccio a tutti e sempre forza mila. Ciao ciao.